Il 15 giugno 1975, quattro mesi prima di morire, per Paolo Pasolini in lettere luterane, tra le altre cose, scrive la Biura alla Trinologia della Vita, rappresentata attraverso i suoi tre film, Il Decameron, i racconti di Canterbury e Il fiore delle mille e una notte, dove esprimeva l'innocenza e la purezza della fisicità e del sesso. Il poeta aggiunge alla Biura il suo pensiero sul sottoproletariato per il quale tanto scrisse negli anni 50 e 60, portandolo nel 1975 anche a girare il suo ultimo film, Salò o le 120 giornate di Sodoma, dove descrive lo strazio dei corpi ormai divenuti merci e sottomessi al potere di ogni epoca.